Il male di male ha un concetto e pensiamo così E' proprio un momento di qualcosa che nessuno mai desidera Ma non ti chiusi, ma che impastiggiano schiatti di pubblicità Bli due anni non ti chiusi, ma che impastiggiano schiatti Ove la gauncia stavano grazie Farsi normalmente, non ti chiusi, ma che impastiggiano schiatti Ma non ti chiusi, ma che impastiggiano schiatti di pubblicità Mare, mare, fino via le mani nessuno facci compagnia Mare, mare, non ti può stare a guardare così perché Mare, 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.